A qualcuno piace caldo, è uno dei capolavori di Billy Wilder ed è una delle commedie più memorabili di tutti i tempi, con sequenze e gag ancora oggi irresistibili. Ambientato nella Chicago del proibizionismo, racconta le avventure di due musicisti squattrinati, Tony Curtis e Jack Lemond, che per sfuggire dai gangster si travestano da donne e si uniscono ad un'orchestra, tutta il femminile, in partenza per la Florida, della quale fa anche parte la bellissima Zucchero, interpretata da Marilyn Monroe. Scritto insieme al fidato Izzy Diamond, il film di Wilder si fa beffe della morale comune e gioca su tematiche molto azzardate per la Hollywood di allora, come la confusione e il ribaltamento degli stereotipi sessuali, ma lo fa non sfruttando quasi mai luoghi comuni o la ridicolaggine dei protagonisti in versione femminile, quanto situazioni genialmente paradossali e puntando sempre su un'ambiguità di fondo che non viene mai risolta completamente, come dimostra anche il celeberrimo finale. Tutto però passa in secondo piano al cospetto di una macchina filmica assolutamente perfetta, dal ritmo infallibile e dalle trovate fulminanti, che si giova di un cast in stato di grazia e con una Marilyn che non è mai stata così brava e sexy, ma che creò un sacco di problemi durante la lavorazione del film. Marilyn infatti non era mai puntuale, era sempre volubile, si imbottiva di tranquillanti e psicofarmaci e aveva grandissima difficoltà a concentrarsi. Improvvisamente si imbambolava, anche per delle battute semplicissime, come Dover Barbon, sono io zucchero, battute che richiesero infatti numero Eulichak. Si racconta che la produzione aveva messo dei cartelli lungo tutto il set con delle battute per lei, ma che lei puntualmente leggeva la battuta sbagliata. Ma quando era un po' più concentrata e nello stato d'animo giusto, ricorda Wilder, avevi qualcosa di assolutamente unico. sullo schermo il risultato era meraviglioso. D'altra parte, continua Wilder, io ho una zia Ida a Vienna che è sempre puntuale e non sbaglia una battuta, ma non so se correrebbero a vederla in un film. Marilyn in realtà non doveva far parte del progetto. Wilder l'aveva già diretta qualche anno prima in Quando la moglie è in vacanza ed aveva giurato di non lavorare più con lei. Ma quando seppe che Marilyn aveva letto il copione e che era interessata alla parte, cambiò subito idea. E Marilyn ha certamente contribuito in maniera determinante a rendere questa pellicola assolutamente indimenticabile. Un'altra curiosità riguarda l'incipit drammatico del film imperniato sulla famosa strage di San Valentino, con tanto disparatori e morti che ovviamente la produzione non voleva. Ma alla fine Wilder la spuntò affermando che occorreva qualcosa di davvero forte e violento, affinché dei bei giovanotti si travestissero da donne e per rendere verosimile il fatto che davanti a una come Marilyn rimanessero imperturbabili. Wilder avrebbe preferito girare il film a colori, ma alla fine si convinse di girarlo in bianco e nero per ragioni quasi esclusivamente tecniche, in quanto la tecnica a colori di allora non era ancora perfetta e temeva che il pesante trucco utilizzato dai due protagonisti per sembrare donne sarebbe risultato alla fine sullo schermo troppo volgare ed eccessivo. Nel 2000, l'American Film Institute ha proclamato a qualcuno piace caldo la migliore commedia americana di sempre. Grazie per la visione!